Ho scelto questa piazza dopo altre volte che c'era stata la possibilità e poi non è andata a buon fine. Quando mi vogliono così tanto e mi espressano questa cosa che per me è positiva, sentirmi l'affetto che mi vogliono, questo per me ha fatto prendere la scelta di Crotone perché penso che sia una piazza calda, una piazza importante e un progetto da sviluppare, da raggiungere cose importanti, quindi voglio mettermi in mostra e ripartire da questa società. Nico? Sì sì, siamo stati già insieme. È un gruppo giovane quindi ovviamente sì, cercare di mettermi a disposizione e dare una mano ai più giovani e ovviamente di spingere la squadra là davanti che sarò il punto di referenza. Ovviamente sono molto felice, sono contento perché si può fare un bel anno. Voglio salutare tutti i tifosi del Crotone e ovviamente promettere un grande anno di tanto lavoro, tanto sforzo e ovviamente di tante gioie. Grazie a tutti i tifosi del Crotone.